Sei un DJ o fai il DJ? Beh, se fai il DJ la cosa è semplice. Prendi la tua roba, la tua musica, vai a fare la serata e appena finisce metti tutto a posto e torni alla vita come se niente fosse. Se invece sei un DJ, lo sei fin dal primo momento in cui ti alzi a quando ritorni di nuovo a letto. Se sei un DJ vuol dire che appena entri in un posto cerchi con lo sguardo alla console, fai attenzione a come si sente la musica, qualunque essa sia. Vai in un locale, cerchi dove è il DJ, guardi dove è la pista, guardi l'impianto, guardi le luci, guardi tutto. Guardi le persone come rispondono alla musica, in qualsiasi tipo di contesto. Se sei un DJ vuol dire che quando vai a fare la spesa, mentre cerchi l'insalata ai comodori, hai un orecchio puntato all'impianto di diffusione e con l'altro occhio vedi come se le persone canticchiano o ballettano mentre fanno la spesa. Se sei un DJ vuol dire che mentre ascolti la radio, aspetti al Gloria che il DJ annunci o disannunci il disco, cosa che purtroppo è sempre più rara per potertelo prendere. Se sei un DJ vuol dire che Shazam è il tuo migliore amico, lo porti sempre con te e che ti permette di scoprire canzoni nuove, come qualsiasi momento è buono per poter scoprire canzoni nuove e musica interessante da portarti dietro. Se sei un DJ non smetti mai di esserlo, qualunque cosa tu faccia, indipendentemente che questo sia il tuo lavoro oppure no. Se sei un DJ, benvenuto nel club.